Dopo i primi cinque giorni di preparazione atletica svolti interamente a Sant'Agata Militello, oggi l'Orlandina Basket si è finalmente spostata a Capodorlando per una seduta mattutina di allenamento sulla spiaggia di San Gregorio. Sì, abbiamo iniziato subito con grande feeling con tutto lo staff sulla condivisione delle idee, sulla condivisione del lavoro e quindi continuamente, costantemente, tutti i giorni abbiamo un briefing pre-allenamento, un debriefing post-allenamento per seguire al meglio la crescita e il miglioramento della squadra. I ragazzi stamattina stanno lavorando al sole, vista mare, quindi sicuramente è un modo per fare un allenamento defaticante, di qualità per la location. Ma è un'opportunità unica, io sono originario di zone in cui la spiaggia la vedi soltanto eventualmente artificiale in un club, come può essere una piscina, eccetera, quindi è sicuramente un'ottima opportunità anche per conoscere un po' il luogo, per farsi conoscere, per farsi vedere, per riprendere un po' contatto con i tifosi, con la popolazione di Capo. È sicuramente un'opportunità anche per stare all'aria aperta, per ulteriormente creare gruppo, per fare gruppo, per trovarsi bene tra di loro, poi sono ragazzi giovani che già apprezzano di loro fare qualcosa di divertente, di nuovo, di innovativo. Si pensa ai muscoli e al fiato, ma anche alla parte tecnica e tattica. E già domenica si inizierà a testare la tenuta di campo dei Biancoazzurri nella prima amichevole di stagione. Alle 18, al Palasport Mangano di Sant'Agata Militello, i paladini affronteranno la Fidelia Torrenova. Vedremo un'orlandina che sta lavorando alla grande, che sta cercando sempre il miglior tiro, con ragazzi altruisti, con ragazzi attenti, che stanno facendo grandi sforzi, stanno dando grande disponibilità per apprendere il prima possibile quelli che sono i concetti base da cui siamo partiti, per giocare insieme, per giocare ad alto ritmo, per giocare in maniera divertente anche per chi ci verrà a vedere, ma allo stesso tempo iniziando a costruire una metà campo difensiva che sia solida e che ci permetta di essere competitivi.